Luce accese ad Agnano per questa prima del convegno. Gentlemen, tre anni di stanza del miglio. Siamo a metà della piegata, allineamento che gradatamente va già a completarsi. Via la macchina in velocità. Problemi per Utus. Via la macchina. Si lotta poi dal centro. Uruk del Ronco tenta di impegnare Juliana mentre è partito alla grande unica a Griff con il buon Vitiello. E il Vitiello punterà subito sul leader con la sua Griff. 13 e 9 a partire. Viene a chiedere strata unica. Griff gradatamente supera l'avversario. In terza posizione ultimato un victory. Per line esterne un sogno mail. 400 in 28 e 9. Davanti alle tribune buona andatura della leader. Mentre un sogno mail, un asino al vento, tenta la risalita ma per il momento l'andatura è brillante. Lontano Utus quasi, fuori corsa. 600 in 43 e 4 da 1.12 e mezzo. E un sogno mail ore al salchio di ultimatum. E si trascina Ubaldo Par al comando il numero 10. Unica Griff. Mezzo medio e iniziale. Nell'ordine del 59 e 4. 16 di frazione. Uruk fa una mezza ruota. Viene via il ragioniere Amodio. Poi ritorna a buono buono lungo ai birilli. Poiché la leader allunga e si distende. Timbra un chilometro effervescente. Nell'ordine del 1 e 14. 500 alla meta. Chiaro vantaggio di Unica Griff nei confronti di Uruk. Un sogno mail che è diventata dura la sua corsa. Allunga decisamente il leader. Intanto c'è una caduta ma la corsa dovrebbe proseguire. con Unica Griff in chiaro vantaggio. Unica al comando. Retta da Rio. Unica Griff leader. Ed è una solo. C'è stata una caduta. Ma Unica Griff. Indirittura. Stavo ricordando Carletto Saturno. Va a vincere. Bene bene bene. Mentre per il secondo. Sul traguardo. Uma Pupa appariglia. l'avversario. Uno cinquantanove e quattro. Uno quattordici e sei. Unica Griff. Ben guidata e improvvisata. Questa libeccio Griff di Paolo Romanelli. Immacolata verranno i colori. Ma in salchi il vitiello. Che ricorda chiaramente il buon Carlo Saturno. Restiamo in attesa. Abbiamo sentito la sirena. Quindi tutto sub iudice. Attenzione eh. Tutto sub iudice. Per il momento è tutto. Linea alla regia.